Salve, mi chiamo Luigi Della Monica e sono un artista del coro del Teatro Reggio di Torino. Io sono Maria Di Mauro, un artista del coro, esattamente un contralto del coro del Teatro Reggio. Sono Orazio Rodino e controfagottista del Teatro Reggio di Torino. Buongiorno, mi chiamo Mauro Ponzio, sono l'ispettore del coro del Teatro Reggio di Torino. Salve, buongiorno, io mi chiamo Marco Sportelli e sono un artista del coro del Teatro Reggio di Torino. Siamo a digiuno forzato ormai da tanti mesi e sinceramente ci manca tantissimo. Quali opere gli piacciono? Quali sono state quelle più emozionanti per lei? Vi ricordo la Turandotti qualche anno fa, poi mi era piaciuta Rosalca. Lei mi ha detto che è controfagottista. Controfagottista, sì sì. Sì sì, ma io mi ricordo perché diciamo che seguono sempre anche tutti i vari orchestrali. Bravo, bene bene, mi fa piacere. Lo conosco anche da quel punto di vista. Bravo, così mi piace. In questo momento purtroppo è l'unico contatto che possiamo avere questo in streaming, quindi proseguiremo questa strada fino a che non sarà possibile di meglio. A noi manca il calore dello scroscio degli applausi perché sul palcoscenico il coro, gli artisti, i solisti, le comparse, le maestranze, l'orchestra aspettano e vivono per questi applausi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.